Molto bene il 213, se la stanno giocando gli ultimi due per l'ultima posizione, 213, 2, 26, 204, 119 e poi sono lì gli ultimi due per la quinta posizione, avanzando giustamente anche per una questione traiettoria della 2 Cammar di Rossa. Trattita per primo, più o meno, se la stanno spostellando, giustamente Antonio, giustamente la seconda posizione della terza con la griglia. Sono candidati tutti e sei alla conclusione di questa tornata. Tornate numero 2, uno incollato all'altro, mentre tutto uguale le posizioni, non è cambiato niente. Tornate alla postazione numero 4, mentre la 119 ha avuto una sandella niente, quindi si è riportrò con la 132 di fianchi. Sembra una griglia di partenza e movimento. Antonio, direi che è fuori traiettoria, è fuori traiettoria la 226, e quindi è stato superato, ma sta cercando di recuperare 2, 26 secondi. Questa è fuori traiettoria, quindi è fuori traiettoria, quindi Antonio ha superato più o meno, mentre in testa è successo a coltellino, che è partito dentro in Presidia. Ilranico, direi che è fuori traiettoria, è fuori traiettoria, quindi belturino, è fuori traiettoria, quindi è fuori traiettoria. L'ultimo, che è Palmisano, che vuole lasciare l'ultima posizione al campito del numero 132 al terzo, Bianchi, 2-0-4 direi, piuttosto in tranquillità, adesso sembra che le posizioni si siano stabilizzate. Allora, intendo che le vetture sono lontane, dopo la categoria dove c'era detta la Toyota Nella K, che quindi è la categoria C, chiediamo all'autobotte di presentarsi e di inappiare il circuito, in quanto la posizione sta aumentando in modo deciso, dentro la 204, a terzo dei controlli del 2-0, che si è infatti niente.